Daniela Dawan, tripolina libica di origine, fuggita bambina durante i terribili giorni che poi portarono il colonnello Gheddafi al potere. Lei ha scritto la sua storia in un libro emozionante e avvincente come solo la storia sa essere, che sia la storia personale o la grande storia. Si chiama Qual è la via del vento? È pubblicato da EO e non è il suo primo romanzo perché la scrittrice non è il suo primo mestiere. Io ho fatto nella mia vita l'avvocato penalista e da un anno a questa parte sono consigliere di Cassazione, cioè giudice di Cassazione, non faccio più l'avvocato. Per alti meriti. Per meriti insigni, questa cosa mi ha gratificato moltissimo il mio ego. Faccio una vita molto movimentata perché io vivo a Milano e faccio la pendolare con Roma a settimane alterne. È un bellissimo lavoro, molto impegnativo. Bisognerà dire qualcosa sulla giustizia. Adesso invece fermiamoci alla storia, che è anche la sua storia e quella della sua famiglia, anche se un romanzo non è mai un'autobiografia, questo in particolare. Nel giugno del 67 gli ebrei di Libia sono oggetto di violenze atroci. Non che fossero ideali le condizioni prima, insomma il pregiudizio e lo scarto sono la cifra che ha caratterizzato la storia di questi uomini e donne. Lei è ebrea. Allora, subito, che cosa significa sentirsi ebrei più che essere ebrei? La ringrazio di questa domanda perché è proprio sul sentirsi che io posso rispondere, non sul fatto dell'essere. Allora, sul sentirsi, io l'ho sempre sentito. Allora, quando ero bambina come una forma di differenza forzata dagli altri, avrei voluto essere come gli altri. Crescendo naturalmente come qualcosa di molto personale che non andava tanto rivelato, un po' perché il contesto non consentiva in Libia certamente di rivelarsi troppo sotto questo profilo, ma anche successivamente come qualcosa di diverso, un forse quando io ero bambina un po' colpevolizzante, cioè il rischio che fosse qualcosa che in qualche modo mi mettesse in difficoltà. Anche adesso un po' l'avverto così, anche se penso che sia, soprattutto adesso che c'è questo, diciamo che risorge un pochino dalle ceneri, praticamente dalle bracci perché non è mai morto l'antisemitismo. Non si è mai spento. Non si è mai spento, però lo sento come qualcosa che in qualche modo mi espone, mi espone. Cioè c'è il segno di un'erranza e di un'esclusione addosso che ti porti dietro da generazioni. Un po', un po'. Se dovessi dire un po', anche se io sono poi perfettamente integrata nella mia vita, non ho una, diciamo, non ho un'osservanza religiosa. Lei non è praticante o non è credente? Dunque, io sono, diciamo, sono a metà su tutto, nel senso che sono, io ho una, io credo, diciamo, io sono, ho una religiosità, io credo che ci possa essere qualcosa. Poi credo che questa qualcosa non corrisponda al, diciamo, alle figure tradizionali delle religioni rivelate, insomma. Io credo, io ho questa forma di religiosità in qualcosa che ci sovrasta, che sia anche l'energia dell'universo, ma c'è qualcosa che sento sovrastarci. Osservo molto, diciamo, parzialmente, osservo alcune cose, potrei dire, che mi fanno comodo seguire. Cioè il fatto di festeggiare la Pasqua, di non mangiare le cose lievitate perché gli ebrei nel deserto per 40 anni non potevano fare il pane, no? Quindi questo è il senso. Sono cifre culturali che segnano un appartenere. Sì, senz'altro. Lo sento come, ecco, più che come un vincolo religioso, come un'appartenenza anche familiare, che non mi sento di tradire. La bambina Nicole, che è protagonista di questo libro e che in parte è anche Daniela, soffre, credo, comincia a soffrire i gesti che sono pura ritualità, che sono sganciati da una fede vera e in alcuni protagonisti è solo così. Sì, anch'io sono d'accordo su questo, cioè anch'io sento questa cosa di Nicole, nel senso che io penso che, per esempio, non sono mai riuscita, devo dire la verità, non so se questo c'entra, quando vado al Tempio, il giorno del Kippur, a partecipare emotivamente alla preghiera collettiva. Per me la preghiera è un fatto individuale e solitario, per cui la ritualità capisco che faccia parte delle forme in cui si esercitano le espressioni religiose, lo capisco, però la trovo anche magari un po', come dire, distacco un po' dal rapporto con Dio, ecco. E l'abbiamo detto questo nome comunque, Dio, oltre che una presenza misteriosa. Vado a pagina 105, la terra di Israele è anche un suo sogno, non lo realizzerà mai ma ci crede, i sogni non chiedono altro che di essere mantenuti vivi. C'è comunque anche nel sentirsi ebrei questo sogno di una terra di Israele promessa e mai di fatto mantenuta, non come una rivendicazione territoriale, ma come nel deserto dei Tartari, come l'attesa? Sì, allora, forse non tanto per me, però sì, l'idea di un altrove che c'è comunque, come se fosse un'altra vita, come se comunque ti aspettasse, questo diciamo magari di fronte alle difficoltà, alle frustrazioni della vita, tu vagheggi un'altrove che potrebbe essere Israele effettivamente, però sì, non è qualcosa che diciamo entra prepotentemente nella mia vita, non entra prepotentemente nella mia vita. Pur devo dire che le volte che sono state in Israele, quando l'aereo si avvicinava e vedevo la terra, effettivamente sentivo che c'era qualcosa di casa. Non so dire se aria di casa, sentivo che c'era qualcosa distruggente nel fatto di avvicinarsi lì, quando finiva il mare e vedevi già la terra, profilarsi la terra, senza dubbio sentivo che c'era qualcosa. Ma ripeto, forse queste cose mi sono un po' trasmesse anche da questo retaggio familiare in cui mia madre si emoziona, ma per quello che ha rappresentato anche per chi più grande di me, la generazione precedente, ha vissuto mia mamma bambina alle leggi razziali ed effettivamente questo fatto di sentirsi dire come allora succedeva a quei ebrei senza bandiera. Questo era uno degli insulti più ricorrenti. Cioè l'idea di questa terra che è stata tanto anche, come dire, che rappresenta qualcosa di... Promessa appunto. Promessa, sì, promessa e come una sorta di riscatto. Voi, la sua famiglia e come lei, gli ebrei di Tripoli sono stati esuli due volte, come molti altri ebrei nel corso della storia, ma in particolare si sente in alcuni protagonisti la voglia di avere Israele come patria e di combattere per questa patria mai raggiunta e nello stesso tempo il dolore, la tristezza di lasciare un'altra patria, che era quella Libia, la terra rossa evocata e un ricordo che fa male. Immagino che sia rimasto anche nella sua memoria di bambina, no? Strappata dieci anni da questa realtà di mare, profumi, colori, da questo melting pot di genti, di popoli. Sì, fa male, però fa male dopo tempo. Cioè, diciamo, questo, che poi non è un dolore, è appunto una nostalgia alla fine. Diciamo, è in sorta, molti anni dopo, cioè, nei tempi della maturità, perché in fondo, prima, chi ci pensava? Cioè, il pensiero prevalente era quello di essere, di aver avuto salva la vita? Era questo il pensiero prevalente. Il pensiero prevalente era di non essere in quel contesto in cui si era odiati, in cui anche per una bambina era molto difficile crescere, perché era un contesto fortemente maschilista, cioè, tremendamente maschilista. Ecco, quindi, cioè, una donna, soprattutto una donna occidentale, una donna non araba non viveva, cioè, non viveva bene nel senso che camminando per strada c'erano sciami di persone che la seguivano, si voltavano, facevano gesti, gestacci, insomma, gesti, quindi c'era questo rapporto morboso, no, verso le donne. E io, che ero bambina, pur essendo, appunto, una bambina piccola, lo avvertivo questa cosa. E quando venivamo in Italia, che accadeva molto spesso, devo dire che mi stupivo moltissimo che camminando per strada nessuno si voltasse a farmi le linguacce. Ecco, per dire una cosa che colpiva a me bambina, cioè questo fatto di avere comunque una… I suoi genitori hanno sofferto molto, è drammatico il racconto del nascondimento, della fuga, e hanno rischiato la vita, mentre si sgozzavano le persone, si rompevano le vetrine, si bruciavano le case, insomma. È stata una sofferenza enorme, è stata rimossa dalla nostra memoria, di italiani, la realtà di questi tanti che non sono neanche riconosciuti come profughi. È vero, è vero. Lei pensi, che posso anche riferire questo, che quando successe, ma forse nel libro l'ho scritto, quando scoppiò la guerra, mia madre chiamò l'ambasciata a un certo punto e chiese ospitalità. Un funzionario dell'ambasciata rispose che non si poteva dare ospitalità, perché la comunità italiana era molto numerosa e quindi l'ambasciata non poteva accogliere tra le sue mura tutta la comunità. E mia madre disse, ma non tutta la comunità, gli ebrai italiani che sono quelli che rischiano la vita. Ma non ci fu, anche perché era giugno e quindi potevano stare in giardino, non era necessario che stessero all'interno dell'ambasciata. L'ambasciata era una bellissima ambasciata, naturalmente, come tutte le ambasciate, lì io me ne ricordo queste ambasciate con questi bellissimi giardini intorno. E quindi no, rifiutarono. Io penso che non fu un comportamento giusto, ovviamente. Anche dopo, questo pogrom, perché è stato realmente un pogrom, non entra nei libri di testo? No, perché non entra nei libri di testo? Non so perché, potrei dire forse perché riguarda gli ebrei, posso dire, anche se la Shoah, ma la Shoah è stata talmente grande che poteva essere sottaciuta, evidentemente. Però io credo che in questo entri anche, beh, credo che entrino più cose in questa cosa. Intanto un riservo da parte dei protagonisti di questa storia, è anche un timore venire fuori con questa storia. Poi è una storia molto politicamente scorretta, a pensarci bene, perché riguarda anche, insomma, il mondo arabo con cui noi abbiamo delle relazioni intense. Abbiamo dei rapporti molto stretti, soprattutto negli anni 60-70, insomma. La violenza contro gli ebrei si scatena dopo la vittoria di Israele nella Guerra dei Sei Giorni. Lo Stato di Israele ha attuato e attua politiche che possono nuocere agli ebrei? Dunque, la domanda è, in un certo senso, sì, che possono avere delle ritorsioni, comportare delle ritorsioni, non c'è dubbio. Io credo che, pur che la politica, certe politiche, possono essere, come dire, oggetto di critica, assolutamente, che non credo che ci siano… Mentre è un tabù l'esistenza, quello mi sembra un dato assodato, mi sembra che sia giusto venire, diciamo, mi sembra che sia giusto che ci sia una pace, mi sembra che sia giusto anche riconoscere le ragioni degli altri e arrivare, in qualche modo, a dei compromessi, ai quali devono arrivare anche i palestinesi. Chiaro, però le politiche muscolari non hanno giovato, ecco. Le politiche muscolari non giovano, anche se, devo dire, spesso nei confronti di Israele il giudizio è sempre molto più severo che nei confronti di altri stati e quindi io trovo… Poi lei ha parlato di un dato assodato al riconoscimento del Stato Israele, sempre meno assodato nel senso. No, assodato nel senso che lo ritengo un fatto, diciamo… Lo riteniamo. Lo riteniamo imprescindibile. Ma non è un giudizio comune. Ma non è un giudizio comune. Mi ha molto colpito il racconto nel libro della ferocia delle uccisioni di cui la bambina Nicole e Daniela è stata testimone. Lo sgozzamento di infedeli. Noi temevamo di averlo assunto come un'abitudine tragica negli ultimi tempi e invece il fondamentalismo islamico non nasce con l'11 settembre. No, io credo che il fondamentalismo islamico nasca prima. C'è, devo dire, un rapporto col sangue che non appartiene secondo me a noi o alla civiltà in cui viviamo. Appartiene a civiltà molto più arcaiche in cui anche lo sventramento di una donna incinta è un fatto ipotizzabile, no, di una donna incinta. Quindi è un fatto che può rientrare negli accadimenti delle cose come è accaduto. Per noi queste cose sono un po' inconcepibili. Probabilmente risalgono a periodi molto più lontani della nostra storia. Ma, ecco, dicevo la dimestichezza col sangue che è una cifra che in certi momenti, in certi paesi c'è obiettivamente più che da noi, ecco. E non credo che abbia a che fare solo con ragioni politiche ed economiche. No, io credo che abbia a che fare con ragioni culturali. Ma in fondo anche adesso la Libia è un paese ricchissimo. Che cosa impedisce loro di vivere una vita di godersi quello che hanno? Cioè non manca loro. E c'è questo accanimento al massacro, a massacrarsi. Tribale. Tribale, secondo me sì. Sì, dobbiamo guardare alla Libia di oggi e a pensare all'odio fomentato, peraltro, da potenze occidentali e arabe che hanno interessi evidentemente petroliferi. Però vanno a parare su un terreno, appunto, tribale, culturalmente antico. Sì. Io penso che ci sia molta responsabilità dell'Occidente in tutto quello che succede. Penso che la guerra contro la Libia sia stata una guerra avventata e sconsiderata. Un po' come è caduto con l'Iraq, devo dire. Cioè non c'è, io però, appunto, ripeto, non sono nessuno per parlare di queste cose, non ho una competenza specifica, ma credo che prima di fare una guerra poi bisogna anche pensare a cosa succede dopo. E tutto questo non è stato fatto. Cioè la guerra in Iraq ha scatenato un inferno che non è ancora risolto, la guerra in Libia ha scatenato un inferno forse ancora peggiore. Quindi è solo per interessi economici. Ecco, l'ipocrisia che ammante i discorsi dei politici occidentali io la trovo una cosa disdicevolissima, per non dire di più, perché, ma quale libertà, quale democrazia, parliamo degli interessi economici ad accapararsi, come adesso in fondo sta succedendo con Haftar, no, e la Francia. I pozzi. Perché secondo lei, da scrittrice adesso, che l'è più proprio, la narrativa ha indugiato tanto poco sulla tragedia degli ebrei libici? Non lo so, forse perché non ci sono persone che si occupano di narrativa, forse perché c'è uno spirito più imprenditoriale, meno, meno, come dire... Qui andiamo sugli stereotipi però. No, non voglio andare sugli stereotipi, quindi sono d'accordo, sono stereotipi, non lo so perché, non lo so perché è successo. Nel libro la protagonista cresciuta e diventata, guarda caso, avvocato, torna in Libia quando Gheddafi furbescamente chiamò gli ebrei, appunto, imprenditori, ricchi, dicendogli siete cittadini libici, venite qui e riavrete tutti i vostri beni. Lei non è mai più tornata, perché? Perché era impossibile, cioè era una cosa, praticamente un'impresa pressoché impossibile. So che è andata una delegazione di ebrei libici a negoziare e so anche che è andata una delegazione di italiani non ebrei sempre in Libia a rivedere il paese, forse anche a negoziare, questo non lo so, però io mi sono molto informata sulla possibilità di avere un visto, non era così facile, era praticamente impossibile. Sarebbe tornata volentieri. Sarei tornata volentieri, anche se devo dire avrei avuto le stesse, come dire, non dico timori, quelle ansie che ha Michonne nel rivedere i luoghi dell'infanzia, nel vederli trasformati, ecco, perché io penso che il tempo sia crudele alla fine e forse è questo uno degli insegnamenti, una, come dire, una delle morali, delle chiavi di lettura del libro. Il tempo sicuramente dà, ma anche toglie tantissimo, quindi il fatto che le cose si modifichino negli anni, che abbiano un… che la città si trasformi, che la casa non sia più quella, cioè è come se in qualche modo io condivido d'altro canto quel sentimento di Nicole di volere che le cose siano cristallizzate, ferme. Che era una bambina che aveva il gusto di certi dolci, di certi cibi, aveva certi odori nelle narici, sentiva il rumore del mare, questo sarà mancato e come, no? Questo è mancato, sì, è mancato tantissimo, è mancato tantissimo e devo dire mi è mancato molto quando ho capito molto mio padre, al quale mancava, al quale mancava ma non l'ha mai detto, però ai primi tempi che eravamo a Roma, perché noi siamo vissuti prima a Roma per tre anni, lui guardava le notizie quando c'è stato il colpo di stato di Gheddafi, c'era tutta questa attenzione verso le notizie, perché era ancora legatissimo e quindi io penso… e vivere poi in una città come Milano, dove non c'è il mare, io l'ho sempre pensato quando vado in una città di mare, che mi piace la città di mare, che mi piace l'idea di trovarmi vicino, l'altro giorno ero in Cassazione, dico una stupidaggine, però c'erano questi cassonetti di spazzatura e vedo questi gabbiani e allora dico a questo mio collega, dico ma è meraviglioso che il mare sia così vicino e ci siano i gabbiani, lui mi diceva no i gabbiani sono qua per mangiare la spazzatura, sono rimasta malissimo, perché avevo queste immagini del gabbiano, il mare, il gabbiano, la città dove ci sono i gabbiani, quindi è una città di mare, ma per dire le associazioni… Lei ascolta avidamente le notizie sulla Libia più che da altre parti, vero? Sì, l'ascolto, qualcosa di mio padre è rimasto. L'Italia ha delle responsabilità, un impegno, probabilmente anche un compito sulla questione libica. Io credo di sì che sia molto importante impegnarsi sulla questione libica, credo che… non so che cosa sia meglio in questa guerra tra Aftar e Serraj, il meglio secondo me è riuscire a tenere forse unito questo paese senza spargimento di sangue, avere un leader comunque che sappia fare il leader. La storia con la S maiuscola si intreccia ovviamente con la storia privata e anche su una presenza assente ma che ha un grande peso, una sorellina di Nicole morta in circostanze drammatiche di cui nessuno vuole parlare a questa bambina. In parte è anche la sua storia, anche se meno drammatica forse. No, posso dirle una cosa che quando io vedevo quelle immagini, quando ho iniziato a pensare a questo libro, in realtà vedevo le immagini della Libia, perché era la guerra contro Gheddafi, stavano cercando Gheddafi e riconoscevo questa terra rossa che veniva tutta rivoltata perché scavavano tombe eccetera e ho pensato che laggiù c'era qualcosa che mi univa a quella terra e pensandoci bene, non che richiedesse un pensiero, non fatto semplicemente di emozione, ho pensato ai resti di una sorellina che io non ho mai conosciuto, che è nata dopo me e mio fratello, è nata molto tempo dopo me e mio fratello e alla fine di una gravidanza molto perigliosa e con calcoli sbagliati è nata al decimo mese ed è morta subito dopo essere nata, cioè è morta praticamente asfissiata. Questa bambina è sepolta lì, ma chissà dove è sepolta perché questa vicenda di questa bimba era stata talmente dolorosa per la nostra famiglia, mia madre ha portato con sé questo corredo, compresa la culla, in tutti i trasferimenti che abbiamo fatto, già da Tripoli a Roma, da Roma a Milano, non si è mai lì per 40 anni non si è liberato del corredino della bimba che veniva chiamata la bimba, il corredino di questa bimba e quindi fu una cosa talmente dolorosa che il pensiero di questa bimba in fondo ha sempre permeato un po' la nostra vita e ho pensato che c'era lei anche lì, che quindi una piccola parte infinitesimale, molecolare di DNA mio era lì con lei, dove non lo so perché poi lì hanno naturalmente divelto, tombe, fatto di tutto. Perché i sepolcri contano. Secondo me contano, sì, io penso di sì. Senta Daniela Dawan, lei è per meriti insigni un membro della Corte di Cassazione, allora la Cassazione è il nostro terzo grado di giudizio, è un privilegio, è anche un merito del nostro sistema giudiziario, che molti dovrebbero invidiarci, eppure questo non significa giustizia certa. Dunque questa è una bella domanda, è una domanda che comporta una risposta complessa, è difficile, allora la Cassazione non fa giustizia, credo che gli errori giudiziari siano pochi, adesso non conosco le percentuali di errori giudiziari, diciamo la giustizia in qualche modo la fanno i giudici del merito, le loro sentenze sono quelle che noi valutiamo, cioè noi in realtà non abbiamo il contatto diretto con la vicenda della persona soggetta al processo penale o della vittima di questa persona, noi non abbiamo questo contatto, noi abbiamo il contatto con la sentenza e con il ricorso contro quella sentenza, quindi il nostro è veramente un profilo molto tecnico di valutazione. Eppure nella percezione comune la Cassazione è il terzo gradino, è la speranza ultima. Ma perché da speranza? Perché in realtà c'è un'assoluta, è giusto questo, bisogna andare in Cassazione se si hanno delle cose da dire, perché la Cassazione può ribaltare dei verdetti di colpevolezza e penso naturalmente a quelli che vengono condannati ingiustamente, la Cassazione li può senz'altro ribaltare e questa è una cosa anche molto giusta. Siamo sempre al favorrei naturalmente, no? Sì, certo. La Cassazione ha una valutazione molto tecnica, perché guarda naturalmente i vizi di legittimità della sentenza, soprattutto se è motivata, se è motivata congruamente, se è logica, se ha tenuto in considerazione alcune cose, se non ci sono degli errori di diritto nel ragionamento del giudice. Poi però effettivamente quello che mi piace molto e che io ho notato nei confronti anche di questi miei colleghi che io non conoscevo prima d'ora, l'assoluta attenzione. Io vorrei proprio spezzare una lancia a favore della Corte di Cassazione, almeno per dire che i giudici studiano, studiano tutto, dalle cose più grandi alle cose più piccole. Quindi non sono tutti soltanto ideologici, schierati. E non è assolutamente così. Io sto parlando della mia esperienza in Cassazione, quindi anzi devo dire che sono portatori di principi garantistici, di rispetto per i diritti della difesa notevoli, notevoli che io non mi aspettavo. Cioè a volte, è paradossale, di fronte a dei ricorsi. Mi trovo io ad essere, tra virgolette, un po' più forcaiola di loro, forse perché intuisco certi, come dire, marchigieni che ci sono dietro. Però è quello che ho apprezzato tantissimo è la capacità di guardare le cose con serenità, con assoluta serenità, tenendo conto delle parole che vengono scritte. C'è attenzione, c'è molta attenzione. Mi sento di dire che io mi fido della Corte di Cassazione. È un po' paradossale da dire perché ne faccio parte, però trovo che io ho notato che c'è questa attenzione anche alle cose piccole, anche alle cose per le quali uno dice sicuramente non l'avranno visto. Certo c'è un carico di lavoro spaventoso, per cui è chiaro che... E qui entriamo in altre questioni, però è importante questo suo messaggio. Sì, che bisogna averne fiducia. Sì, lei mi sembra una persona sincera, umanamente, e quindi con una grande capacità di introspezione psicologica, che credo anche nel leggere le parole, conti, parecchio. Sì, è vero. La sensibilità femminile e la sensibilità psicologica, che in particolare alle donne è dato come un dono aggiuntivo. Ancora una cosa le volevo domandare. Questo suo libro è entrato in finale in un premio di letteratura per ragazzi e la cosa mi ha un po' stupito, perché anche se tratteggiata in maniera molto delicata, ha però tanti registri, c'è la storia, ci sono le storie private, c'è una saga familiare, c'è l'introspezione psicologica. Ci sono tanti livelli complessi. Lei scriverebbe mai per dei ragazzini, che peraltro sono i migliori lettori in Italia oggi? Perché no? A me penso che potrei anche divertirmi a scrivere per loro. In realtà, sì, potrei scrivere per i ragazzi. In realtà mi veniva molto facile scrivere quando mi colle bambina. Cioè, perché c'è una sorta di medicifazione? Un bambino si riconoscerebbe in questa figura, si riconoscerebbe molto. Ah, è un'affermazione, sì. Nel suo sguardo alle cose, ai grandi. Cioè? Sì, perché io in realtà ho mantenuto una parte di me che purtroppo, devo dire, non è mai molto cresciuta. Meno male. Il fanciullino. Il fanciullino, che è rimasto un po' così, per cui ho questa attitudine un po' a entrare anche in sintonia con i bambini. È un compito tra gli altri, tra i molti altri. Che canzone dedichiamo a Nicole e alla sua famiglia ferita, di cui questo libro porta una memoria che comunque è dovuta, no? Era un debito quasi che si sentiva di saldare. Sì, esattamente così. Era un debito che volevo saldare ed era anche un tributo che volevo. Volevo far vivere una sorella che non è vissuta in realtà. Ecco, questo era anche un punto che mi stava tanto a cuore dire. Beh, la musica che mi piace, l'ho conosciuta, l'ho sentita recentemente, ma l'ho trovata bellissima. È questa canzone, ma mediterranea, cantata da Herbert Pagani in francese. È bellissima, perché si sentono gli odori del Mediterraneo. Lei mi diceva prima che tra l'altro Herbert Pagani è il nostro concittadino. Sì, sì, sì. Grazie. Un grande artista, grazie a lei. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.